ciao amici oggi voglio svelarvi un trucchetto facile facile per combattere lo stress e andare in vacanza quello funziona sempre ma non tutti possiamo regalarci una vacanza quando vogliamo giusto amici no oggi ho pensato a qualcosa di semplicissimo alla portata di tutti che possiamo fare ogni giorno ovunque se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il trucchetto facilissimo di oggi è l'alimentazione ma che noia fidati è interessante studi e ricerche hanno individuato quali sono i migliori cibi per aiutare il corpo a produrre serotonina dopamina e dendorfine i neurotrasmettitori responsabili delle sensazioni di benessere fisico e mentale se ogni giorno ci assicuriamo di mangiare giusti cibi superare lo stress e avere un umore positivo costante sarà facile come bere un bicchier d'acqua 1 acqua proprio l'acqua semplice naturale è l'ingrediente chiave se siamo disidratati il corpo e il cervello non funzionano bene e l'umore è nero 2 banane contengono potassio e magnesio che sostengono il sistema nervoso 3 mandorle noci ricche di magnesio e calcio facilmente assimilabili e utili per i neurotrasmettitori 4 verdure verdi le verdure a foglia verde contengono vitamina b9 che serve per la serotonina 5 cioccolato fondente dal 70 per cento di cacao in su e senza zucchero bianco contiene triptofano antistress 6 salmone ricco di omega 3 e vitamina d necessari al cervello e al buon umore 7 carni magre contengono vitamina b12 e ferro che insieme tonificano il sistema nervoso 8 riso integrale contiene magnesio e triptofano aiuta a innalzare la serotonina e amico dell'intestino 9 tè verde il basso contenuto di caffeina i potenti antiossidanti sono un tonico per il sistema nervoso 10 lenticchie apportano ferro potassio fosforo rame che insieme aiutano le funzioni cerebrali wow vado a farmi subito uno spuntino aspetta prima di correre in dispensa un avvertimento tenersi lontani da cibi consolatori come patatine cioccolatini e altri snack industriali costruiti a tavolino per indurre queste reazioni nel nostro corpo e creare un senso di dipendenza i cibi di cui ho parlato oggi sono naturali e aiutano il corpo nelle sue funzioni fisiologiche non creano stress al metabolismo anzi eliminano lo stress dal corpo per vedere tanti altri video come questo basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche mangia consapevole e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao